Era previsto e programmato il sollevamento delle barriere del sistema Mose alla bocca di Porto di Chioggia per questa mattina, venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 9 con abbattimento alle ore 13. Nulla di strano quindi che questa mattina le barriere si siano sollevate. Si è trattato di uno dei periodici test di sollevamento per verificare che tutto si svolga correttamente, secondo il protocollo. Oggi è stato il turno di Chioggia, domenica 18 sarà il turno di Malamocco e mercoledì 21 quello della bocca di Porto di Lido, Treporti, San Nicolò. Nei giorni scorsi anche le barriere del Baby Mose sono state sollevate, in un'occasione si stava però sollevando anche l'acqua in corso, montata dallo scirocco. I test sono organizzati dal Consorzio Venezia Nuova. Grazie a tutti.